Il primo intervento che abbiamo programmato sarà fatto da Margi e da Marta e giustamente riguarda la questione di genere, anche la performance che è stata fatta prima e ci sarà invece un intervento che entrerà più nel merito di questa questione qua. Allora, innanzitutto portiamo il saluto a tutte e tutti coloro che sono presenti qui oggi da parte delle lavoratrici, delle delegate e delle militanti di Adele Cobas e di fronte a questa platea composta maggiormente da uomini non potevamo non prendere la parola sulla violenza di genere che ci colpisce sistematicamente. L'ennesimo femminicidio, quello di Giulia Cecchettin ha segnato un solco indelebile per la lotta alla violenza di genere e ci deve interrogare sulle necessità di agire subito, di non stare zitte, di prendere la parola, di provare rabbia. Un episodio che tra l'altro si è consumato in questi territori, nel ricco e avanzato nord-est, dove ci sono le brave famiglie e i bravi ragazzi. La risposta è stata potente, ovunque, migliaia di donne, di corpi arrabbiati, giovani e meno giovani, hanno riempito le piazze di ogni città. Non abbiamo bisogno di un minuto di silenzio, non vogliamo panchine o scarpe rosse, ma vogliamo maggiori diritti e cambiare radicalmente questa società, basata sul patriarcato, che ci opprime e ci uccide. Il femminicidio è la più drammatica delle conseguenze della violenza di genere, che ovunque nel mondo convlupiscono i donne. Ci sono le violenze sessuali, le molestie nei posti di lavoro, i ricatti, la disparità salariale, il legiferare sui nostri corpi e potremmo continuare a lungo l'elenco. Parte del problema sono anche gli organi di informazione mainstream, che non perdono occasione per veicolare il messaggio che la donna, quando subisce violenza, il più delle volte se l'è andata a cercare, perché non ha denunciato prima o giudicando come era vestita o dove si trovava, facendo così un ribaltamento del ruolo della vittima. Uno degli antidoti al patriarcato è la conquista di maggiori diritti per tutte e tutti, un'educazione all'affettività fin da piccoli, una sanità pubblica che si prenda cura della salute delle donne e della maternità. Servono consultori, centri antiviolenza, case di edilizia popolare pubblica, un welfare che funziona e pari opportunità nei luoghi di lavoro. Ma non solo, serve una rivoluzione che sia culturale, che non abbia una visione colonialista e che non veda più l'Occidente come centro del mondo. È un lungo percorso di messa in discussione che ci vede tutte e tutti coinvolti, ma che deve partire con la consapevolezza, soprattutto da parte degli uomini, di essere parte del problema. È necessario imparare ad ascoltare, mettersi in discussione, rivedere il proprio ruolo di potere ed analizzare il modo di comunicare, il lessico che viene usato a volte volgare, sessista e denigratorio. Per costruire una nuova società bisogna partire da noi, individualmente, ma soprattutto come comunità, come colleghi di lavoro, come militanti e genitori. Come organizzazione sindacale ci stiamo interrogando sul nostro agire in merito alle violenze e alle differenze di genere, su come promuovere e sostenere il protagonismo delle lavoratrici. Ci interroghiamo sulle modalità migliori per affrontare il tema delle molestie nei posti di lavoro e per dare strumenti di difesa legali, ma anche promuovendo la costruzione di un sistema di solidarietà tra colleghe. Lo sciopero del mese scorso delle cameriere ai piani di Novotel di Mestre per ottenere un salario migliore è un importante indicatore anche della voglia di lottare. Uno sciopero tutto al femminile, che ha evidenziato la precarietà e i salari bassi a cui sono costrate molte donne. La protesta delle lavoratrici part-time nelle mense scolastiche. La creazione di un numero antimolestie all'interno di uno dei magazzini della Geox, lo sciopero di un'ora il 25 novembre, gli striscioni in molti magazzini per dire basta alla violenza di genere. Lo sciopero delle operatrici socio-sanitarie e del servizio di integrazione scolastica sono segnali importanti e su questo binario abbiamo il dovere di continuare, sapere che il percorso è ancora lungo, ma sicuramente sarà rivoluzionario. Come sindacato ci interroghiamo sul ruolo e su quello che possiamo fare e come farlo. La violenza di genere, come abbiamo detto, non è solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica e la disparità contrattuale di paghe e di diritti dentro e fuori luoghi di lavoro. Lo sappiamo bene che uno degli aspetti che impediscono a tante donne di uscire dai contesti di violenza è ad esempio la dipendenza economica. Siamo in un paese dove le donne guadagnano attorno al 15% in meno degli uomini e questa disparità salariale che è la più alta della media europea è dovuta al fatto che le donne siano prevalentemente impiegate in settori che hanno retribuzioni più basse e contratti più sfavorevoli e che i lavori dirigenziali e spesso con mansioni e contratti più rimunerativi sono occupate prevalentemente dagli uomini. Inoltre la disparità salariale è dovuta anche al fatto che molte donne siano costrette a ricorrere ai lavori part-time. L'occupazione part-time femminile come percentuale dell'occupazione totale è del 31,5% contro l'8,4% di quella maschile. Spesso e volentieri siamo le donne a dover dimettersi a causa dell'impossibilità di compatibilità tra tempo di lavoro e gestione familiare, del carico del lavoro di cura domestico, orari incompatibili con quelli della scuola a causa della quasi totale assenza di welfare come ad esempio misure di sostegno come la maternità insufficiente, mancanza di servizi come assili nido o con costi troppo elevati e quindi inaccessibili per molti nuclei familiari. L'impoverimento dovuto alla disparità salariale tra donne e uomini e la precarietà lavorativa in cui molte donne vivono non nascondiamocelo, ce lo portiamo ovviamente fino alla pensione. Infatti in Italia le donne ricevono pensioni 36% più bassi degli uomini. Chi ha diritto e chi mai andrà in pensione? Di questo parliamo quando parliamo di lavoro femminilizzato, lavoro di cura, disparità di genere sul mondo del lavoro. Parliamo ad esempio del lavoro all'interno delle scuole, nelle pulizie e nell'assistenza alla persona, in cui la maggior parte del personale impiegato è femminile e spesso si ritrova con contratti indecenti, con paghe da fame, con condizioni di lavoro precarie e sfruttate, con mancanza di quasi totale di diritti come la malattia, ferie e permessi. Parliamo delle lavoratrici delle pulizie, la cui maggioranza è migrante, lavoratrici con le quali lottiamo da anni e ne denunciamo le condizioni lavorative. Tutti e tutte noi conosciamo bene il sistema delle cooperative e il contratto multiservizi con cui vengono impiegate. Queste lavoratrici delle pulizie garantiscono un servizio fondamentale in tanti posti pubblici e privati, uffici del comune, provincia, ospedale, università, biblioteche, nei centri commerciali e nei grandi negozi come per esempio l'IKEA e vengono retribuite con una paga, una delle paga più basse a livello nazionale, stiamo parlando in media di 6 e 7 euro l'ordi all'ora. Ma parliamo anche degli adetti e le adette alle mense scolastiche, educatrici, operatrici, sociosanitari, assistenti all'autonomia e alla comunicazione di studenti e studentesi con disabilità che lavorano nelle scuole pubbliche statali e comunali con contratti a tempi indeterminato ma con orario part-time ciclico, verticale, cioè che prevedono la sospensione del lavoro e della retribuzione nei mesi di chiusura della scuola senza poter accedere all'indennità di disoccupazione. Parliamo delle oltre 2 milioni di donne, più della metà donne straniere, che lavorano come collaboratrici domestiche, colf, badanti, babysitter, di cui quasi la metà non ha neanche un contratto di lavoro e l'altra metà, quando ha un contratto, percepisce uno stipendo in media di 5-6 euro all'ora e ha diritto soltanto a 15 giorni di malattia all'anno pagata dal datore di lavoro e non dallo Stato, non dall'Inps. Come sindacato negli ultimi anni ci stiamo impegnando a far conoscere questa realtà e a rivindicare che le lavoratrici domestiche in Italia sono sempre più necessarie e che meritano da parte dello Stato quantomeno la garanzia di uguali diritti a quelli dei lavoratori e le lavoratrici dipendenti, facendosi ad esempio carico di pagare la malattia e a integrare i contributi per poter avere una pensione dignitosa. Le misure di sostegno alla maternità e alla paternità obbligatoria per chi ovviamente ne ha diritto sono di 5 mesi per la madre, mentre il padre ha diritto solo 10 giorni per poter passare al congedo parentale soltanto con il 30% della retribuzione base. Davanti a questo, come è possibile avere pari diritto alla genitorialità e pari carico nella gestione della cura familiare. È ovvio che questo desincentiva la donna a intraprendere o a continuare il percorso lavorativo. Tutto questo evidenzia come una donna incontra estrema difficoltà ad avere un'autonomia e una stabilità economica e di conseguenza, in caso di violenza domestica, difficilmente uscirà da questo contesto di violenza o neanche semplicemente a denunciare. E per le donne straniere questo è ancora più difficile, perché in Italia, come sappiamo, il diritto al permesso di soggiorno è legato al reddito e al legame familiari, per cui le donne immigrate spesso vivono una situazione di doppio ricatto. È necessario essere consapevoli di questa situazione, ma non solo saperlo. Per poter parlare veramente di reddito, diritti e dignità per tutti e tutte, è urgente contribuire al cambiamento radicale dentro e fuori luoghi di lavoro. Proponiamo farlo partendo da qua, individuale e collettivamente. Grazie.